ragazzi sono uscito per andare a vedere questo concerto del festival cos'è non lo so adesso ve lo dirò dopo comunque c'è la musica e ci facciamo con la passeggiata vediamo cosa c'è in giro piano piano mi sto avvicinando alla piazza del cantante c'è musica da tutte le parti ragazzi ce n'è gente fidatevi di me ce n'è tanta che basta per adesso il progetto il progetto il progetto Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.